come al solito si stanno prima la telecamera dai ok ritengo così può andare bene quindi benvenuti in questo momento come avrete già letto su instagram come su youtube e su youtube ma con la y e la t finale maiuscola è il sito nuovo Zelda, è il sito vecchio Zelda perché è il sito da dieci anni sulla wii però non l'ho mai soccato nonostante ho avuto la wii però solo con la swiss ho scoperto se l'ho conoscevo e ti è dato a mio sapere video sotto i preferiti infatti come vedrete però questo si lo so con da solo c'è anche Zelda, l'X of a Kang ma quanta fantasia che hanno quei da nintendo che vanno a riproporre non so con i miei 990 è uno dei miei 10 in versione swiss va bene quarta fantasia comunque youtuber barastreamer che noia che sempre se mi seguite su instagram avrete visto che ha appena vinto la medaglia d'oro del mio tonnè estivo per youtuber ha portato questo Zelda, io sapevo che era un sito, ho perso qui possiamo andare si una volta anche l'X of a Kang e sto dicendo tutte le cose che si è perso chi quando usi un swiss icon segui le istruzioni per collegare l'assessore con il lacchetto poi afferra saldamente il controller io sto soccando i swiss icon per questo mi interessa anche ti ho potrei soccare la televisione non so cos'è sta swiss icon poi afferra saldamente il controller e non lasciare la presa ricordi che aveva abbastanza spazio quindi devo avere al cento per cento se no soltanto devo andare a seccare capite nel problema un altro problema sapete qual è? che io non so mettere se non è non so l'info non dà la possibilità di mettere pausa ai video un altro problema sapete qual è? che non voglio stoppare il video se non stoppare ma proprio finire il video e poi farne un altro perché li potrei unire su un'app che mi permette i miei video soltanto che io passo fatica che il telefono è difficile da stabilire quindi non ti trovo la quadratura non so la passo a cercare una quadratura giusta per fare di nuovo il video nello stesso solo l'altro problema sapete qual è? non posso fare il video di 50 minuti perché il mio telefono non lo è e il video è 50 minuti quindi dovete guardarvi questo ma probabilmente so cheremo di meno perché perché i sviluppatori del nintendo fanno schifo due anni fa avevano detto che sarebbe scritto il nuovo Zelda ancora devo dire non questo che dino 10 anni fa ma la versione nuova la versione nuova veramente nuova compratela a play stesson viva sony la nintendo non la pensate pensate solo alla play stesson la play stesson è sera la nintendo fa schifo vado a prendere queste cose ma comprate a play stesson nintendo fa schifo non guarda dove ho la scatola d'interno, eh buona mamma, lo sapessi eh, che non mi importa di rocket league, non apro da una mamma, non dai, che l'hai assornata a fare, assornamenti inutile, e dei che nintendo sono io che le devono assornare, fanno schifo e dei che nintendo sono io che le devono assornare, fanno schifo, che non mi importa e dei che nintendo sono io che le devono assornare, fanno schifo, che non mi importa e dei che nintendo sono io che le devono assornare, fanno schifo, che non mi importa e dei che nintendo sono io che luyo e delle che nintendo sono io che le devono assornaUSE e di che ne le che dico bath grazie Eccolo qua Provate No, no, tocca la tua sede Ma non si posso credere Ho toccato Vabbè, sede bene, ok Vedete Questi due stroms Ma senti, se posso calare Vedo qui Così entro uno sti cosi Così Sì Più o meno Così iniettano Sti cosi Quindi non ne si mettono Cocco 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 No, vedete Non si mettono Non si mettono Non intendo tutta una fregatura Questo video si sta trasformando Che c'è Che paura Che cosa Se stai iniziando il fuoco Io non ho moglie Che metto tutta roba Mi fai mettere Questa roba Prima Non ti prego Perché mi intendo Fa così schifo Molto meglio Per stesso Cattura Che mi importa Di fare la foto Che credo Che sono felice Che c'è Di abitanti Da terra Ok Sono felice Che le cose Ci sono Forse Distrusse Foreste Per assicurare le sostanze di ossidere tra queste aziende sono un piacere ma che riesco a essere sto coso ma si può so che sia sto coso? ma che l'odio troppo non si mette non si mette ambivano ma so che lei la deve essere sto dire il potere universale fortuna è la deo che può avere tutti questi poteri e poi ha messo sto chi nasce di cui è il più povero il potere universale il patrimonio è lassato dagli dei che tutto possono e non è so fortunato l'estremo potere la delevitò dalla e in tinta anche strabile con l'intento di proteste il potere universale dagli esseri scuri la dea dopo aver radunato sua terra a tutti gli umani sopra i suti le elevò a frittuare la sire un luogo in cui non potesse essere assunta dal male nei più dei molti spazi sesti oltre non è troppo veloce non è troppo veloce non è troppo veloce ma è troppo veloce una cosa fa schifo l'intento quindi a te e suoi seguarsi rischiando la loro stessa vita e pisonerlo e sulla terra torno a regnare la pace ok se pisonerlo fa schifo l'intento è diventato un video contro l'intento questo è troppo schifo da voi mani da infinite sene la sera ma interesse questo racconto contribuivano molte altre essendo mai dimenticate l'intento sconverto una dei quali pronti a essere l'altra popola l'intento è tu a essere il protagonista non è più l'intento per se aspettate vi state risentrate l'intento è troppo anche se putta il solito no vabbè che figo vabbè ok una cosa buona se hanno quello sto muovendo il soragon non con la levetta proprio la mia mano si muove guardate si muove con la mia mano non con la levetta ma è figo che figo putta il sol con r soli r non subito non subito non subito ok verso schermo e premi se hai preso il ciroscopio non ti sembra allineato tutte le sue con r verso schermo e premi ok avventura vette nuova avventura se fossero si tre che sia col primo ma guarda lì non me lo aspettavo figo vabbè che devo cambiare il nome pronto ok ok cosa è questo mostro nintendo pre sense pre sense vuole fare l'internazionale vuole send of zelda skyward world non mi aspetta proprio fighiamo si guarda dai raccorsa non di estero se tutti sappiamo ok piccola per una città non mi piace esplorare ma non voglio saltare la spena questa è questa è la statua della sicuro vedo di che porto che so con paulo fare scudiamo promessa mappolino ha dato poco non tutto per esempio che si posso volare sotto a questi selli vabbè avrete che bisogna mai send ma poi non se mai la sena dove send viene passata in bocca e che so dobbiamo fare ditta passano a morire ma salve poi dai noti di grassa con un basetto una cosa basica da di scoprisa sto coso per una notia pressa link è il momento di destarsi link link ma sempre mette un altro nome alla partita lo chiamai in un altro mondo lo chiamai una sola da provare lo risicono in questo video scoprisa oh che sei carino con le viventi con lo blu con lo blu vivo e una lettera con queste matte attenta su animali. Hanno fatto a sé una lettera grunsa e io questa è notta attenta su animali. Caro signor pigrone, si commetto che quando seguerei questa lettera starei qua dormendo. Dove è nato? In realtà sì. Non sono ricco. Ossi il sorno del battesimo del polo. Non te si è dimenticato, vero? Da parte di Zelda. Cioè, Zelda ti sfrutta anche, ti chiama pigrone. Dai, quando lei è quella che vi è rapita e tu sei le ruote. Link. Ma che fai a fare per questa donnassa schifosa che non ti merita? Ok, la grafica devo dire, è carina. Questa mi è piaciuta, la grafica. Non è che so con anni 90, quindi, so. Non è che da grafica aspettavi che altro, beh? Sai com'è? Avete fatto nuovo per la Swiss, oppure avete solo ripreso il file del so con anni 90, come dico e penso e so sicuro io. Questa grafica è bella. E' Link, maestro Asio Otus. Ossi il sorno del battesimo del polo. Ricordati delle teorie che ti ho spiegato. Io, maestro Asio Otus, che fino a un punto fa neanche lo seguo, e si crede il mio maestro di polo, madame. Il mio talento naturale non mi hai insegnato tu. E' di quelle del maestro Cornelio. E fai detto, a proposito, ricordi come se si guarda attorno con... Se vuoi dare un'occhiata attorno a te, premio. Proviamo. E di... Ah, posso uscire sia... sia con le mie mani, e sia con le levette. Beh, io preferisco sia le mie maniche più figole. Mettere a so con le mani, non so con le levette. Le mani, no, che peccato. Sì, non è che adesso non so con le mani. Se sei in effetto te le sei scomodo, però... Certo, si nota la differenza, che è più difficile, però... Dai, fico. Dai, come grafica. Sì, ma io voglio perdere il tempo a parlare di te. Voglio, lo so detto, a me piace esplorare. Ok, quindi con B si corre. Lo con Y non si salta, attenzione. Perché io sono abituato che Alexava Ken con Y salta. Con cosa salta? Ma si può saltare. Rotola, quasi rotola. Con la L. No, non ho sentito. Com'è lì e non funge sempre? Di piazza come l'è il funge? Non si usa tutto questo. Ma forse è stato tornato a Minì? No, no, no. Non si usa un voltone. Ecco, secondo me sto in grande blusia, io non ho voglia di restare qui, voglio andare a esplorare, ci sento a tre ma fosse il secondo me che voglio per esplorare, oltremuola, dopo il numero e cosa se è oltremuola, è questa battuta per poi, comunque, con questa isola che io s'adoro, sì, mi salutiamo, che ho visto il video s'adoro 22 minuti, non io con te non resistere stesso possi, ma si vanno due sogni differenti, no?